Si aggiravano con fare sospetto a Sant'Orso di Fano, ma la polizia li ha fermati in via Bellandra e li ha sottoposti ad un controllo. A bordo dell'auto, una Citroen, c'erano tre giovani croati identificati dagli agenti che poco prima, nelle ore centrali della mattinata, si erano fermati in prossimità delle case, proprio quando i residenti sono soliti ad essere fuori dalle abitazioni. Nella vettura infatti sono stati rinvenuti vari arnesi utilizzati per scardinare gli infissi, tra questi diversi guanti e due cacciaviti da 30 e 40 centimetri. Dai successivi approfondimenti è emerso che la donna, una ventenne e già nota alle forze di polizia, era destinataria di un ordine di esecuzione emesso dall'autorità giudiziaria, dovendo scontare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione a causa di un furto commesso a Bolzano quando era minorenne. Per questo è stata arrestata e condotta in carcere. La donna è stata anche denunciata per possesso di arnesi atti allo scasso. Inoltre il ragazzo alla guida dell'auto, di appena 19 anni, è risultato non aver mai conseguito la patente di guida e quindi è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Nelle prossime settimane gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, proseguiranno i controlli mirati al contrasto dei furti in abitazione.